Questa mattina nuova protesta della rete delle associazioni per riaffermare ancora una volta il diritto alla salute e il diritto alla vita. Sono stati i genitori dei ragazzi delle scuole di Giarre a condurre il corteo lungo Corso Italia. Continua il percorso che abbiamo iniziato con le varie manifestazioni e con le azioni legali. Ovviamente quello dei bambini è un altro aspetto perché anche loro facendo parte della comunità viene negato quel diritto alla salute che spetta forse ancora prima degli adulti. La manifestazione di oggi sottolinea anche questo aspetto. Noi continuiamo ovviamente nel nostro percorso che è quello di aggregazione di tutte le fasce sociali, di tutte le categorie, anche in questo caso, anche se oggi non è proprio così, anche delle categorie commerciali, produttive del territorio, proprio per dare forza alla nostra azione. Per reclamare sempre il nostro diritto alla salute che ci hanno tolto, ci vogliono togliere, anche per insegnare ai nostri figli i nostri valori, il nostro diritto. Cosa chiedete? Chiediamo la riapertura del pronto soccorso se non dell'ospedale intero perché ne abbiamo diritto e perché Giarre sono centomila persone, non si scherza con la vita delle persone. Un piccolo malore si può trasformare in una tragedia e non vogliamo questo per nessuno, anche per chi non ha partecipato oggi. Noi vogliamo lottare anche per loro, per tutti, per noi, per i nostri bambini. Il corteo è poi approdato in Piazza Duomo dove sono tuttora in corso i giochi del bicentenario del Comune di Giarre e il Comitato Cittadino Pro-Ospedale lamenta il fatto che gli organizzatori dei giochi del bicentenario non abbiano sospeso le attività, neppure per qualche minuto, per menzionare la loro presenza in Piazza Centrale. Siamo stati coinvolti da parte di alcuni genitori a organizzare questa manifestazione e sin da subito si è evidenziato, diciamo, un non totale disponibilità da parte dei dirigenti scolastici affinché ciò avvenisse e chiaramente è risaltato, essendo anch'io un genitore agli occhi di tutti, una discrepanza tra le manifestazioni scolastiche contro il decreto della buona scuola del governo Renzi dove i propri dirigenti hanno coinvolto a più non posso i genitori e quindi gli alunni e poi per il diritto alla salute e quindi alla possibilità che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande o dal primo cittadino all'ultimo cittadino può sentirsi male e c'è stata una sorta di boicottaggio. Un'altra situazione che mi rammarica è quella che gli organizzatori dei giochi del bicentenario che erano presenti in Piazza Duomo al nostro arrivo non si sono nemmeno degnati, diciamo, di interrompere per un solo istante i festeggiamenti, i giochi e la musica festosa come se Giare non fosse stato colpito da alcun evento luttuoso che invece è risultato alla cronaca nazionale. È una situazione di molto rammarico perché ritengo che un problema del genere nessuno si può sentire esente da ciò.